Dopo l'annuncio di ieri da parte del Vice Ministro alle Infrastrutture Nencini dell'arrivo di fondi per il porto di Pescara, il Forum Abruzzese dell'Acqua torna a richiamare l'attenzione sul progetto previsto dal Piano Regolatore Portuale in via di approvazione e soprattutto sulla gara per la costruzione della barriera soffolta. Il Movimento Ambientalista pone l'attenzione sul fatto che il Provveditorato alle Opere Pubbliche dell'Abruzzo ha giudicato l'appalto per la realizzazione della cosiddetta barriera soffolta senza aver ottenuto prima il consenso della Commissione per la Valutazione d'Impatto Ambientale. È un aspetto incredibile, la valutazione d'impatto ambientale si fa prima, non dopo. È andata a gara, praticamente è un elaborato progettuale, quindi il Comitato via che dovrà giudicare anche le osservazioni che vengono dal pubblico, dai pescatori, dagli ingegneri e chi vuole partecipare al procedimento, questa Commissione dovrà anche magari mettere delle prescrizioni, lo farà con una gara già appaltata, diciamo così, con degli elaborati già affidati a una ditta che ha quindi dei diritti, quindi con una questione economica e circa un milione di euro l'appalto. Quindi noi crediamo che si voglia portare tutti davanti al fatto compiuto di realizzare delle opere che sono previste nel nuovo piano regolatore portuale che però ancora non è approvato, che è molto contestato per esempio dalla categoria dei pescatori, ma non solo, è un piano faraonico e qui non è che si tratta di, diciamo, sofismi, si tratta di, in un'opera portuale, anche 10 metri di differenza nel posizionamento delle opere di un molo, per esempio, può causare problemi con le correnti, quindi va valutato attentamente, non con questa fretta che di solito è cattiva consigliera.